Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dei Grandi Classic Arcade, qui nella sala giochi Back to the 80's di Vintage Gamers. Oggi voglio parlarvi di un picchiaduro a scorrimento arrivato nel 1989, che non ha avuto bisogno di farsi conoscere dagli adolescenti ai ragazzi di quegli anni, in quanto i suoi protagonisti erano già famosi a livello mondiale. Sto parlando di quattro tartarughe mutanti che combattono il male a colpi di arti marziali. So già che avete capito di chi sto parlando e quindi non vi porto via altro tempo. Vi lascio alla mia recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Heroes in a nutshell Turtle Power Teenage Mutant Ninja Turtles 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 Fu questa la parola che iniziò a diffondersi tra gli adolescenti a metà degli anni Ottanta. Era il grido di battaglia di quattro tartarughe mutanti che combattevano a colpi di arti marziali per difendere la terra dal malvagio shereder. Grazie al loro humor e alla devozione per il bene, sono diventate ben presto oggetto di desiderio da parte di qualsiasi ragazzino di almeno cinque anni. Migliaia di giocattoli a tema, vestiti e ovviamente videogiochi sono solo alcuni esempi del merchandising che le Tartles possono vantare nella loro oramai trentennale attività. Per quello che ci riguarda, il cabinato da sala giochi sviluppato da Konami e pubblicato nel 1989 triscosse un gran successo tra i videogiocatori, grazie ai suoi sprite colorati, alle bellissime colonne sonore e alla possibilità di giocare in cooperativa. Il gioco è un picchiaduro a scorrimento orizzontale. Il malvagio shereder, capo dei soldati del piede, ha rapito la giornalista e tua amica April O'Neil. Devi andare a salvarla. Stop. Fine della trama. All'inizio dovrai scegliere il tuo ninja, ognuno con un'arma unica che ti garantirà ben quattro stili di gioco diversi. Una volta presa la tua decisione, salterai letteralmente in città e avrai pochi secondi per ambientarti, prima che i soldati del piede ti piombino addosso cercando di ucciderti. I livelli hanno diverse ambientazioni urbane ed arrivato alla fine di uno schema, ti imbatterai spesso in un boss finale ripreso dalla serie animata. Passerai per le fogne e l'autostrada fino ad arrivare al tecnodromo, la base nemica dove April è tenuta prigioniera. Troverai parti di scenario che potrai colpire per aiutarti. Spacca l'idrante per annegare i nemici, o lancia il parchimetro per travolgere chiunque ti venga incontro. E mi raccomando, guarda dove metti i piedi. Le strade sono piene di tombini. Non ci sono armi o power up nel gioco. L'unica cosa che troverai sarà una gustosa pizza appena sfornata, che oltre a saziare il tuo appetito e farti desiderare di averne una sullo sgabello di fianco, rigenererà la tua salute. I comandi sono essenziali. Grazie al joystick ad otto direzioni, potrai spostarti senza problemi per tutto lo schema, mentre i due tasti serviranno ad usare l'arma e a saltare. Premili assieme per un devastante calcio volante. Il cabinato venne distribuito in diverse versioni, principalmente per due giocatori. ma la più bella era senza dubbio quella a quattro postazioni, uno dei punti forti del gioco, la possibilità di giocare in cooperativa con altri tre amici. Il divertimento che questa modalità offriva, unito alle colonne sonore e dei coloratissimi sprite, faceva passare in secondo piano a rendersi conto troppo tardi di aver giocato per tutta la partita con il ninja dell'amico a fianco, cedendo al desiderio di inserire un altro 200 lire. Il videogioco, grazie al suo successo, generò nel 1991 un sequel, Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time, nel quale le quattro tartarughe combatteranno Shredder, una fantasia proprio, attraverso le diverse epoche storiche. Furono ovviamente sviluppati diversi porting per console domestiche e portatili, Spectrum, Amiga, Atari, Game Boy. Una delle più riuscite è la versione per Nintendo Entertainment System, il NES, che si seguiva fedelmente l'arcade originale, dando anche la possibilità di giocare in quattro contemporaneamente, grazie all'uso del NES for Score. Fu addirittura prodotto un bundle apposito.